Monica Maggioni, allora Silvio Berlusconi auspica un governo di concordia, Mario Monti il presidente del consiglio uscente, un governo del presidente, Beppe Grillo ha detto chiaramente stamattina al capo dello Stato che intende lui formare un governo 5 stelle, a questo punto l'impressione che si ha è che la strada di Pierluigi Bersani sia sempre più stretta, la sua impressione qual è? Che probabilmente la strada è effettivamente stretta ma la mia prima impressione è che vedo poco, pochissimo interesse per il destino dell'Italia e per quello che aspetta questo paese perché sento moltissimi discorsi che non tengo in nessun conto la situazione che c'è fuori da questo paese, ricordo e vorrei tanto ricordare ad alcuni degli intervenuti in questo dibattito che là c'è Cipro che sta andando in default e che il nostro paese potrebbe avere di questi problemi Allora vedere tanto interesse stamattina sentivo Grillo all'uscita dalle consultazioni che parlava della commissione di vigilanza della RAI e del COPASIR, ecco diciamo che per chi chiede il governo vedere così tanto interesse per i servizi segreti della RAI mi sconvolge un pochino in un momento in cui forse le priorità del paese sono altre Si aspettava un'affermazione così netta da parte del Movimento 5 Stelle? Si me l'aspettavo perché mi sembrava che ci fossero tutti i dati, soprattutto negli ultimi giorni fosse abbastanza chiaro che si andava in quella direzione e c'era un altro elemento, il fatto che i sondaggisti più accorti raccontavano della grande difficoltà di monitorare e di dare una proporzione a un movimento che si muoveva su linee di comunicazione e di aggregazione diverse da quelle tradizionali Gli Stati Uniti in questo senso hanno insegnato a diffidare dei sistemi di sondaggio tradizionali quando ci si trova di fronte a un movimento politico che ha caratteristiche diverse e mi sembrava ce ne fossero davvero tutti i segni Secondo lei come mai Pierluigi Bersani più delle altre forze che hanno sostenuto il governo Monti in quest'anno e mezzo ha pagato poi questo appoggio con il voto politico dello scorso febbraio? Io non so se sia stato questo o se il voto non abbia alla fine subito un effetto strano da liberi tutti perché ci sono tanti fattori in campo sui quali varrebbe la pena riflettere Vale la pena riflettere sul fatto che il messaggio di Silvio Berlusconi molto aggressivo negli ultimi giorni ancora una volta in termini di promesse eccetera sembra aver avuto presa Vale la pena riflettere sul fatto che appunto 5 Stelle ha avuto il successo sì che si immaginava ma probabilmente con dei numeri ancora più alti Ho come la sensazione che la politica raccontata attraverso gli schemi più tradizionali abbia pagato in generale cioè che ci sia stata una sorta di pagare da parte della politica Mi verrebbe da dire seria ma insomma della politica che cerca di ragionare su grandi concetti e non ha slogan immediati Come sta oggi il partito democratico? Perché si ripropone anche un po' questo dualismo con da una parte la figura del presidente del segretario Bersani e dall'altra quella del sindaco di Firenze Matteo Renzi Beh come sta il partito democratico? Non sarò certo io a poterlo dire Posso cercare di leggere alcuni segnali Alcuni segnali che vengono dal fatto che la campagna elettorale tutto sommato ha visto un rapporto Renzi-Bersani accettabile Assai più di quanto si sarebbe potuto immaginare io ricordo quando ho moderato il dibattito delle primarie E mi sono effettivamente chiesta come poi queste due persone potessero ricomporre messaggi e visioni per andare a una campagna elettorale comune E quindi devo dire che dal punto di vista della relazione tra le due persone mi sembra di aver visto un partito democratico Che tutto sommato è riuscito a dare un segnale di unità Certo che adesso tutto quello che va ad accadere condizionerà fortissimamente anche il destino del partito Quindi la formazione del governo o meno, il successo del governo o meno, la necessità di andare o no presto a nuove elezioni Saranno tutti elementi che da una parte implicheranno scelte sul piano del paese E che inevitabilmente porteranno a un ridisegnare anche gli equilibri all'interno del partito democratico A suo avviso la nomina di Laura Boldrini alla Camera dei Deputati e quella di Pietro Grasso al Senato che segnale è per il paese? Beh è un segnale che forse potevamo tutti iniziare un pochino prima a pensare che al paese bisognava raccontare Che al di là della politica in quanto tale o intesa solo come attività politica barra partitica C'erano delle persone all'interno del paese molto valide, portatrici di un sistema di valori molto forti Che potevano diventare momenti di aggregazione, di consenso e di progetto politico Penso che se invece di essere messi nei luoghi in cui giustamente oggi sono Non si fosse aspettato così tanto e si fosse attribuito anche a persone di questo tipo lungo il percorso E non penso solo alla campagna elettorale, penso a tutta la fase precedente La possibilità di dire delle cose che producano senso al paese Forse le cose sarebbero state diverse Io se posso guardare da fuori pur non essendo un grande specialista di politica Come sapete tutto sommato sono molto più appassionata di mondo Ma insomma la politica è la nostra vita di tutti i giorni in Italia Allora devo dire che forse uno degli elementi che ho visto mancare è il rimettere al centro i temi E i temi incarnati nelle persone, nei progetti e nelle storie delle persone Troppe volte ho sentito parlare di cose e non ho capito esattamente come le si voleva realizzare Boldrini e Grasso in due ambiti diversi danno un'idea precisa invece L'ultima domanda che le faccio è da ex inviata della RAI Oggi l'Italia quanto è lontana dal resto del mondo, dal resto d'Europa? L'Italia oggi è in una stranissima posizione Perché per un periodo di tempo è stata molto molto vicina al resto d'Europa Più di quanto fosse mai accaduto negli ultimi anni Adesso c'è un grandissimo rischio di stanza immediata Di nuovo essere marginali, laterali, guardati come un pericolo possibile Di nuovo essere fuori Non sono interessata solo ai tavoli dove si fanno i grandi giochi di potere Mi interessa di più pensare a un'Italia che è dentro un sistema decisionale europeo Ecco, temo che una serie di cose che stanno accadendo in questi giorni Mettano a fortissimo rischio la centralità all'interno del sistema Europa E siccome io non posso fare a meno di pensare alla centralità del sistema Europa Che va oltre, diventa anche centralità all'interno del sistema Mediterraneo E diventa capacità dell'Italia di porsi come centro di dialoghi possibili Rispetto a mondi che oggi vivono una conflittualità esasperata Ecco, questo mi dispiace per il mio paese E mi dispiace per quello che il mio paese può rappresentare rispetto agli altri mondi È una grande opportunità persa per tutti se l'Italia non è più così al centro del dibattito